Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare... Scusa posso Hillary? Per una volta lo voglio fare. In un momento così... In un momento così... Cosa? Cosa? Cosa immediatamente? Ma che era? No, niente. Perché facciamo la notte di dama? È il vino forse. Allora, ricomincio. Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la casa del grande fratello... Sì, sì. È... È il vino. È il vino. A dopo.